su spettacolomania abbiamo Maria Esposito, Massimiliano Cagliazzo, Ivan Silvestrini presenti ovvero Rosa Carmine e il regista di Mare Fuori Quattro, benvenuti. Allora partiamo subito ovviamente da Rosa e Carmine visto che già vi sarà stato detto un po' il Romeo e Giulietta moderni con le famiglie insomma l'una contro l'altro e speriamo naturalmente in un epilogo più felice. La domanda è che forza dà l'amore può bastare per cambiare oppure far cambiare vita? Che forza l'amore può bastare per far cambiare vita? Sì perché tu poi cerchi di portare Rosa dalla tua parte. Io credo che la forza che ha l'amore è sicuramente quella di ispirare e quindi ti dà un'energia come quella degli incendi, delle forze della natura che però sono potentissime ma sono dei momenti. Se poi dopo tu non lo accompagni con un certo tipo di cura, con il continuare a scegliere per e in virtù di quell'amore lì a un certo punto si spegne tutto perché un terremoto dura un minuto e trenta se è fortissimo, uno tsunami quanto può durare, un'eruzione vulcanica quanto può durare? Poi lo devi coltivare, no? Maria, alla fine ce l'ha fatta, è stato tenerissimo, ha conquistato Rosa E chi sa Invece per te l'amore basterà per farti cambiare strada? Diciamo anche che Rosa ha un grande peso Sì, diciamo che forse l'amore mi può cambiare Ti può cambiare? Forse Ti può forse anche salvare dal senso di colpa che avrai pesante in questa all'inizio Quello sì, quello è l'unica cosa che fa Poi non so se mi cambierà Poi diciamo che per Rosa è anche un po' scegliere tra due uomini alla fine, no? Cioè il padre e quindi una vita diversa oppure Carmine, cioè quella è la scelta Eh sì, chissà Se fosse possibile incontrare i vostri personaggi, cosa direste loro? Tu cosa diresti a Rosa e tu cosa diresti a Carmine? Ma io lo incontro sempre a Carmine Cioè io se voglio, capito, fischio, faccio il rumore del mare, quello prende, viene, cioè capito E gli direi grazie probabilmente, anche un po' forse con gli occhi che mi si gonfiano Però non è ancora il momento di, capito? Sicuramente grazie Assolutamente, anche io gli direi grazie Sì, anche a Mare Fuori che vi ha dato grande popolarità entrambi Anche a te tantissima Vi sentite, insomma, di ringraziare anche questa serie, vi ha dato tanto Sì, Mare Fuori è la serie che io porterò per sempre nel cuore Per sempre, perché è quella che mi ha fatto crescere Mi ha fatto appassionare ancora di più a questo lavoro Mi ha fatta conoscere e penso che non la dimenticherò mai Assolutamente sì Cioè la gratitudine non si spiega nei confronti della storia Ed è il motivo per cui ci abbiamo messo così tanta cura Nonostante tutto, tutti E grazie anche, no, a tutto La giostra che gira intorno Grazie anche al regista, ovviamente A cui chiedo, questa è un po' la stagione della svolta, della crescita Li vediamo molto più fuori che dentro, almeno dai primi episodi, insomma, che abbiamo visto Sì, è così, questa è la stagione in cui bisogna cominciare ad aprire i cancelli Che si sono chiusi all'inizio della prima stagione Per imprigionare questi ragazzi È tempo di guardare oltre le sbarre È tempo di andare veramente a tuffarsi nella vita Nel mare fuori della vita E ognuno di questi personaggi cercherà di farlo in maniera diversa Confrontandosi con i suoi demoni E io penso che mai come in questa stagione ci sia una sensazione di speranza e di possibilità Anche se ovviamente non sarà una speranza che arriva senza un prezzo Posso dire una cosa che secondo me è molto importante a questo proposito Giusto una, poi dopo andiamo Credo che sia molto organica dal punto di vista narrativo La direzione che la serie sta prendendo Cioè in un momento in cui noi scegliamo di raccontare dei ragazzi All'interno di un contesto dove la libertà è ovviamente limitata per i motivi che sappiamo Però quel contesto, quel carcere ha ovviamente l'obiettivo di provare a reinserire i ragazzi in società Quindi se si vuole seguire con onestà questo filone qui Io lo trovo molto giusto e organico che si dia uno sguardo fuori E quello che succede quando uno ci si tuffa Grazie mille, grazie a tutti Grazie